E la grave ritardo con cui viene eseguito lo smaltimento dei rifiuti speciali dei soggetti positivi a Pozzallo sta creando notevoli e gravi difficoltà. Da dieci giorni la ditta incaricata dall'ASP di effettuare il servizio non ha operato alcun ritiro a Pozzallo, appesantendo la situazione già difficile che vivono gli utenti positivi. Il sindaco ha già provveduto per tempo a segnalare al direttore generale dell'ASP di Raguse il disservizio, ma a tutt'oggi non si è ancora registrato nessun cambiamento. Vista la situazione di estrema urgenza che si è venuta a creare a seguito dell'inadempimento della ditta incaricata dall'ASP del ritiro dei rifiuti speciali degli utenti positivi al Covid-19, afferma il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna, se non interverranno nell'immediato cambiamenti sarò costretto a rivolgermi all'autorità giudiziaria per la risoluzione del caso.